La francese, guarda come si fa. Botta e risposta tra Zibi Boniek e Francesco Totti. Scrive Zibi Boniek sul suo profilo Twitter. Risposta polacca alla magia del capitano. E poi il messaggio, calciando il pallone dalla barca in canotto nelle acque di Ponza. La francese, guarda come si fa. Il capitano della Roma, infatti, aveva conquistato i social a Ferragosto con un video ripreso da alcuni tifosi in cui lo si vede calciare al millimetro da una barca all'altra il pallone, durante le sue vacanze estive sempre nell'isola.